Let's go, face, face La solita domanda è questa Quando pubblichiamo? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì? Il sabato e la domenica no Pranzo, cena Se noi decidiamo di pubblicare a luna Fate un test Quello che faccio io solitamente è questo Fare un test Fatelo voi e vi renderete conto che quando aprite Facebook per esempio a luna Andate sull'opzione più recenti Guardate che cosa c'è E quante persone pubblicano a quell'ora Indipendentemente dal fatto che pubblichino anche le persone Stesse, insomma, con i loro profili privati Ma anche le pagine Tutto il giorno ci sono persone che postano qui E quando tramonta il sole Dall'altra parte del pianeta ricominciano a postare anche loro Quindi un orario giusto non esiste Io punto sempre sul discorso della qualità E quindi cercare di promuovere qualcosa E di proporre qualcosa che sia interessante A qualsiasi ora del giorno A parte le statistiche che possiamo trovare online Gli insight che abbiamo sulle nostre pagine Per vedere i nostri utenti Quando e come si connettono di più alla nostra pagina Non c'è un momento giusto Non può esserci un momento giusto Perché ormai lo smartphone fa talmente parte della nostra vita Della nostra quotidianità Che lo guardiamo ogni 5 minuti Le statistiche sono altissime Insomma, quindi Non riesco a consigliare un orario giusto E continuo a dire Fate roba di qualità Contenuto di qualità Video di qualità Post di qualità Fate interessare il cliente Non dategli degli appuntamenti fissi a un orario Perché tanto poi si stuferà anche di quello Magari non sarà il contenuto giusto Nonostante l'ora Secondo voi sia quella più corretta Eppure questi video vanno sempre alla mattina Devo cambiare orario anch'io? Grazie a tutti